Amici, parenti e conoscenti di Mauro Pretto, ma anche semplici cittadini, si sono riuniti ieri, erano circa un centinaio, e hanno sfilato nel centro di Vicenza in una fiaccolata in memoria dell'uomo ucciso lo scorso 12 maggio a Gazzo, in una frazione di Zovencedo. Il 47enne boscaiolo che viveva in un'abitazione isolata tra i boschi fu ucciso sulla soglia di casa con una fucilata di pallettoni da caccia. A quattro mesi di distanza ancora nessun indizio ha portato all'individuazione del responsabile di questo omicidio. Proprio per questo gli organizzatori hanno voluto riaccendere i riflettori su questo caso ancora irrisolto, preoccupati dal silenzio calato troppo presto sulla vicenda. Alla fiaccolata erano presenti Anna, la compagna di Pretto, il fratello Diego e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. Dopo quattro mesi siete qui per dire cosa? Beh, più che in ricordo è per tenere alta l'attenzione su un omicidio che si è verificato nel nostro moderno Veneto, in provincia di Vicenza, a Zovencedo, che ha visto morire con una rosa di pallettoni sparata al petto nel portoncino della sua casa, un residente di questa frazione. Il problema è che sono passati quattro mesi, era il 12 maggio e a distanza di quattro mesi ancora non si è riusciti ad avere un nome e uno da ricercare. Quindi abbiamo un assassino che gira a piede libero per il Veneto e quindi era importante sicuramente partecipare a un evento come questo soprattutto per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e naturalmente con l'ospicio quindi che le autorità competenti arrivino al dunque. Devo notare alcune differenze di trattamento purtroppo per casi simili. Mi riferisco ad esempio al caso di Igor il russo dove si sono mobilitate le forze dell'ordine ma addirittura anche l'esercito per andare a caccia di questo assassino. In questo caso abbiamo qualcuno che ha ucciso, ha ucciso con un'arma letale a canna lunga, un'arma da caccia con dei palettoni e gira ancora a piede libero. Che è una roba che non esiste anche perché l'avevo sentito tre ore prima, si è sentito per tefro perché lui ogni tanto veniva a lavorare per me che io ho una piccola ditta di allestimenti fiorissimi lavorava per me, santuariamente mi dava una mano perciò ci siamo sentiti al venerdì verso le quattro e mezza e poi alla sera presumo da quello che si è detto l'hanno ucciso. Ma lei si è spiegato come mai non si sa ancora nulla, buio completo su queste indagini? Il mio pensiero è quello che conta meno di tutto però forse ha pestato i piedi a qualcuno presumo, presumo perché ripeto non ho la più palle di idea di chi possa aver fatto questo perché se lo sapessi sarei il primo a... però anche perché noi avevamo un rapporto che è tra parentesi quali sono di lavoro perciò sai quei rapporti che si tra fratelli negli anni cioè lui aveva il suo mondo che io accettavo ma a volte non condividevo perché avevo il mio modo di pensare e lui il suo però lo rispettavo cioè se uno ama la natura vuoi vivere così in quella maniera lì fuori dal mondo via dicendo perfetto cioè lo accetto però il mio modo io amo gli animali anch'io però lui era... li amava in maniera viscerata cioè anche i lubrichi perciò è difficile da spiegarsi sta roba cioè non aveva un carattere semplice eh pensiamoci è chiaro però sai quel carattere semplice cosa vuol dire cioè alla fine era un buono perché se poteva ti dava una mano in tutto non lo dico perché mio fratello perché io sono il primo se uno sbaglia a dire però non meritava questo ecco questo in questa maniera qua è lasciato là per otto ore dieci ore dopo che l'hanno trovato insomma avete sentito la vicinanza delle persone degli amici? ah sì io sui profili facebook che ho messo ogni tanto metto le sue foto perciò comunque comunque lui è una persona che è nata nel mio paese a Castelnuovo dove abito era conosciuto conoscono me perciò comunque perciò anche la storia di se stesso anche se non lo conoscevi la storia di se stesso fa fa pensare no? in effetti stasera ho visto tante persone che vengono che non lo conoscevano perciò è una roba che comunque ti colpisce perché è assurdo morire così come quando mori in un attentato qua siamo più o meno nella stessa strada insomma